L'azienda che impiega il principe Ferri ha recentemente licenziato 100 dipendenti nel tentativo di ridurre i costi. Ora ex dipendenti hanno accusato l'azienda di salute mentale di «tossicità». Un'azienda di salute mentale che impiega il principe Ferri è stata criticata per la sua «tossicità» da ex dipendenti a seguito di una serie di tagli. Anche BetterUp, che due anni fa assunse il duca di Sussex, come responsabile dell'impatto per una cifra stimata di un milione di sterline all'anno, è stata accusata di «bullismo». L'azienda ha recentemente licenziato 100 dipendenti per ridurre i costi. Diversi ex dipendenti si sono recati sul sito di recensioni Glassdoor, per sfogare la loro frustrazione verso quella che un ex membro dello staff ha definito la sua cultura tossica. Un recensore ha scritto «facciata da setta, bullismo, tossicità, ognuno per se stesso». Un account executive che ha trascorso meno di un anno presso BetterUp, ha affermato che l'azienda era senza dubbio la peggiore azienda per cui ho lavorato. Un altro ha aggiunto «peggio ancora, in un'azienda impegnata ad aiutare gli altri a raggiungere la sicurezza psicologica, non esiste sicurezza fisiologica». Altri hanno esortato l'azienda a sbarazzarsi del legno morto, compreso il principe Ferri. Meno della metà delle 490 persone che hanno trascorso del tempo lavorando presso BetterUp, consiglierebbero di lavorare lì a un amico. Un attuale dipendente dell'azienda ha espresso preoccupazione per gli orari prolungati. Hanno detto «lunghe settimane di lavoro possono portare al burno». Un altro attuale dipendente ha detto che gli è stato detto di superare alcune cose o che quella roba è colpa tua, mentre, i leader cambiano direzione costantemente.